Giacomo oggi ha otto anni. Sin da piccolo prova subito sensazioni ed esperienze che a volte non si provano in una vita intera. Cosa si può fare quando si hanno a disposizione carte non scelte e oltretutto ci si trova in una situazione decisamente avversa? Si è di fronte ad una sfida e la si dovrà affrontare solo utilizzando le carte che si hanno a disposizione. Giacomo in maniera del tutto spontanea, in maniera naturale, riesce ad armonizzarsi, ad amalgamarsi in una realtà complessa, una realtà che di normale ha ben poco. Lui si trova ad essere responsabile, lui dimostra di portare a termine tutti i compiti che gli vengono assegnati e lo fa in maniera molto precisa, in maniera meticolosa. D'altronde lui non vuole creare dei problemi dove già ne vede abbastanza. È empatico, lui capisce al volo quando qualcuno si trova in difficoltà. D'altronde lui stesso molto spesso è testimone di situazioni complicate, situazioni difficili da gestire. È altruista, lui vorrebbe sempre aiutare tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, a lui viene naturale farlo. È tollerante, accetta sempre di aspettare il suo turno senza mai lamentarsi, anche solo per ricevere le attenzioni che vorrebbe, le attenzioni che vorrebbe un bambino della sua età. E tutte queste qualità lo portano ad essere estremamente resiliente. Lui affronta tutte le difficoltà senza mai abbattersi, anzi trova sempre la strategia giusta e adatta al momento. E grazie alla resilienza lui si sente estremamente sicuro di sé. D'altronde lui tutti i giorni ha la dimostrazione di essere un grande punto di riferimento per il fratello autistico. Lui prova soddisfazione quando riesce a convincere il fratello a cambiare strada. Prova soddisfazione quando riesce a capire una frase mal pronunciata dal fratello che nessun altro riesce a comprendere. Prova soddisfazione quando riesce a tranquillizzarlo in un momento in cui il fratello è particolarmente agitato. In questi giorni di isolamento in cui i bambini si trovano spesso in classe a passare l'intervallo seduti al banco, Giacomo mi ha chiesto un quadernino, un quadernino per i suoi pensieri. Ne leggo uno. L'autismo non significa che il bambino deve essere ignorato, anzi i genitori passano più tempo con lui, i miei genitori passano più tempo con mio fratello, ma giocano anche con me. Tutte queste qualità però non lo escludono dal provare anche sentimenti contrastanti, sentimenti difficili da capire, soprattutto per un bambino. Lui prova rabbia. Uffa, la mamma non mi può portare al parco. La mamma deve accompagnare mio fratello a terapia. Prova tristezza. Mio fratello può usare il tablet tutto il giorno, mentre a me lo concedono solo ogni tanto. Prova impotenza. Come posso aiutare mio fratello? Oggi è particolarmente agitato, solo perché si è fulminata una lampadina. Prova invidia. Tutti quelli che vengono a casa nostra chiedono come sta mio fratello, chiedono come procedono le sue terapie, i suoi progressi. Di me se ne infischiano proprio. A 37 anni ho avuto il mio primo figlio, Nicolò. A 39 ho avuto il mio secondo figlio, Giacomo. A 40 anni ho ricevuto la diagnosi di autismo del mio primo figlio. Un figlio autistico ti stravolge la vita, ma anche avere un fratello autistico te la stravolge. I fratelli dei bambini disabili sono anche vulnerabili. Sono un facile bersaglio sotto l'aspetto del bullismo. Tuo fratello è proprio scemo, tuo fratello non capisce niente. Solo per avere un fratello disabile succede anche questo purtroppo. In mezzo a una pandemia mondiale, in un periodo in cui di normale c'è veramente poco, Giacomo è stato invitato ad andare alla lavagna dalla sua insegnante, a parlare ai suoi compagni dell'autismo, a parlare di suo fratello, a parlare della disabilità e l'ha fatto con una naturalezza disarmante e si è giudicato addirittura l'applauso da tutti i compagni. Io sapevo, perché avevo letto, che una grande percentuale di persone con fratelli disabili poi da grande svolge un lavoro che ha a che fare con la disabilità. mi sembrava una cosa assurda, impossibile, ma come? Uno ha una disabilità in casa tutti i giorni in famiglia e poi se la vuole ritrovare anche sul posto di lavoro? Poi però ho pensato, beh, d'altronde i figli dei musicisti praticano, suonano degli strumenti, i figli degli sportivi praticano dello sport, quindi direi che l'ambiente esterno condiziona chiunque. E una mattina, una mattina come tante, Giacomo mi ha stupita ancora una volta dicendomi, mamma, io so già cosa farò da grande, io farò l'insegnante di sostegno perché sono già capace a farlo. Grazie. Grazie.